I miei amici mi hanno aiutato a diventare quello che sono oggi, senza di loro non ce l'avrei mai fatta e non sto esagerando, è la pura verità, loro lo sanno. Tifo-Inter? Cioè, tifo, diciamo simpatizzo. Se vince bene, se non vince, amen, non è che mi dispero, perché mio papà è dell'Inter, insomma. A chi vuole iniziare a rappare, il consiglio che do personalmente è a quello di farlo, cioè senza proprio pensarci due volte, tanto le persone parleranno comunque, qualsiasi cosa tu farai e non hai nulla da perdere, quindi anzi hai solo da guadagnare, quindi fallo, senza pensarci proprio. Il più grande traguardo che ho raggiunto nella mia carriera fino ad oggi è fare un concerto a Roma, quindi nella mia città, e vedere migliaia di ragazzi sotto al palco per me è stata la gioia più grande che ancora mi porto dentro, come proprio come se stessi lì su quel palco. Sono contentissimo del mio percorso, assolutamente sì, perché l'ho scelto io, avrei potuto scegliere un altro tipo di percorso più agevolato, però purtroppo sono testardo e questo penso che sia anche uno dei motivi per il quale sto andando forte, insomma. Poi ditemi voi se sto andando forte. Ho sempre paura di fallire e ancora non l'ho superata. La domanda mi chiede se l'ho superata o non l'ho superata e ho tutti i giorni paura di fallire, è questo che mi spinge a fare sempre di più. Tra il guido di adesso e il guido di prima, l'unica differenza è che il guido di prima era convinto di saper rappare, ma la gente non lo sapeva e lo prendeva per il culo, mentre adesso lo sanno tutti. Non ho mai pensato di diventare famoso, poi famoso, cioè nel senso non è che sono diventato famoso, diciamo che sì, ho svoltato la mia vita rispetto a prima, però non avrei mai pensato di arrivare fino a qui, di avere un pezzo quasi a 20 milioni, no, assolutamente no, sto sincero. Ho fatto 12 anni di calcio, ero pure forte, solo che poi purtroppo da un lato e per fortuna dall'altro ho dovuto smettere per la musica. Grazie Radio 105, bella.